Buonasera, siamo qui insieme al Circolo dei lettori di Torino per parlare insieme all'autrice dell'ultimo libro di Paulina Armange che si intitola Io odio gli uomini e che in Italia è stato pubblicato da Garzanti. Si tratta di un pamphlet molto interessante, molto brillante che io ho letto quando è uscito in Francia perché è diventato subito un caso editoriale anche perché è stato minacciato di censura ed è un saggio molto sincero, molto esplicito che teorizza la misandria, quindi proprio l'odio verso gli uomini come via di uscita e di liberazione dall'oppressione dello sguardo maschile. Io vorrei subito, sono molto curiosa di parlare con Paulina di questo suo piccolo saggio e vorrei partire proprio dall'esergo del saggio che è una bellissima citazione di Silvia Plath che dice Il guaio è che detestavo l'idea di mettermi al servizio degli uomini. Ecco, tutto parte da qui e vorrei chiedere a Paulina se anche la rabbia verso gli uomini che in questo pamphlet è esplicitata, teorizzata e spiegata anche nelle sue forme costruttive deriva da questa detestabile idea di essere al servizio degli uomini. Io penso che c'è un po' la base del patriarca, che è di volere smettere le uomini al buono e al profito dei uomini. E questa citazione, per me, c'è veramente il résumé della source d'una colère e d'un desir d'emancipazione che è alla source, io penso, del lavoro di Silvia Plath e c'è per questo che mi ha parlato. Effettivamente sì, è una citazione importante perché secondo me racchiude quella che è la base proprio del patriarcato, ovvero questa ambizione, questo desiderio di voler sottomettere le donne e di asservirle appunto agli uomini a vantaggio degli uomini. È una citazione che secondo me riassume molto bene la fonte della collera, della rabbia appunto delle donne ed esprime molto bene anche il desiderio, l'ambizione di emancipazione che sta poi alla base proprio anche del pensiero di Silvia Plath. Ma lei pensa che anche adesso le donne stanno in un certo modo al servizio degli uomini oppure che venga loro chiesto di mettersi al servizio degli uomini? Sì, penso che anche se è di meno in meno vero che le donne se mette al servizio degli uomini, è sempre il punto del patriarcat è di oppressare e di diminuire le donne al servizio degli uomini, e è qualcosa che si deve sempre combattere oggi. Effettivamente sì, secondo me nonostante sia passato tanto tempo ci troviamo ancora in questa situazione in cui c'è un patriarcato, c'è un patriarcato con cui dobbiamo fare i conti perché è un patriarcato che vuole opprimere e vuole sminuire le donne e quindi questa è una constatazione che bisogna fare perché è di questo che ci occupiamo nella nostra battaglia. Quindi secondo appunto secondo questo ragionamento e secondo questa invettiva, potrei definire questo pamflet forse anche un'invettiva, si ritiene che Pauline ritiene che la misandria, quindi l'odio verso gli uomini sia salutare. E la dichiarazione di Pauline è molto netta perché non è detesto un certo tipo di uomini, quindi un certo tipo di uomini patriarcali, opprimenti, mediocre e violenti, ma li detesto tutti. Li detesto tutti in quanto genere che per millenni ha esercitato un'oppressione, io credo, ma chiedo, mi chiedo e chiedo a Pauline quali sono i difetti, precisamente quali sono i difetti che lei ritiene di trovare negli uomini, anzi, per usare l'espressione, la parola precisa che ha usato lei, quali sono le tare degli uomini? Io penso che ci caratterizzano il gruppo social dei uomini, in questo rapporto alla domina patriarca, è veramente una specie di aveuglamento volontario per rapporto a ciò che vivono le uomini oggi, e è veramente una paresa a se saisire del tema che è la masculinità oggi, che è toxica per le uomini e per tutte le altre persone, per gli uomini, è veramente una paresa a riflessire a questa questione e è qualcosa che è cruciale in questo momento. Devo dire che secondo me l'aspetto che più caratterizzante e che più determina appunto caratterizza questo gruppo sociale, così lo chiamano il gruppo sociale degli uomini, è in primis una sorta di totale cecità, una cecità volontaria direi, quando si tratta di rapportarsi alle donne, di vedere quello che sono le donne, quello che è il ruolo delle donne, e poi una sorta di pigrizia, diciamo così, nell'accettare, nel fare i conti con quella che è una mascolinità, oggi come oggi, che è assolutamente tossica non solo nei confronti delle donne, ma anche degli uomini stessi. E quindi questo atteggiamento, questa mancanza di accettazione, di questa mancanza di disponibilità, di fare i conti con questa dimensione, è ahimè molto importante al giorno d'oggi, un aspetto molto importante. Pauline definisce gli uomini come esseri violenti, pigri e vigliacchi. E appunto, ha appena detto che li definisce proprio gruppo sociale, ma non pensa che ci sia una eccessiva generalizzazione in questa definizione. di ritrovare in tutti gli uomini, in tutto il genere maschile, questi elementi di violenza, egoismo, pigrizia e vigliaccheria. Io penso che c'è interessante di fare una generalità, quando la generalità existe già. On è su dei numeri di violenza che sono molto parlanti, con, in Francia, 98% dei violeurs, che sono dei uomini, e quindi la violenza sexuola è il fatto dei uomini e l'inazione par rapporto a questa violenza, e la perpettazione del sistema patriarcal è anche il fatto di tutti questi uomini che ne fanno nulla e io penso che c'è molto nobile di non volere fare di generalità, ma è anche di non mettere il genere masculino face a queste responsabilità. Devo dire che è interessante sicuramente questa considerazione sulle generalizzazioni. È una generalizzazione che però ha un motivo d'essere. Che cosa intendo dire? Che i dati, ad esempio, sulle violenze parlano assolutamente da soli. Nel senso che, ad esempio, in Francia il 98% degli stupri sono compiuti dagli uomini. E quindi è un fenomeno che riguarda quasi esclusivamente gli uomini. Ed è una cosa nei confronti della quale gli uomini stessi sono vittime della, come dire, sono in predallinazione, non fanno nulla per cambiare la situazione e inoltre permettono che questo sistema patriarcale che perpetua questa situazione resti tale. Insomma, gli uomini non fanno nulla per cambiarla questa situazione. Quindi se da un lato può essere ritenuto nobile sicuramente non generalizzare, dall'altro però penso che in questo caso una generalizzazione sia necessaria anche per riconoscere il fatto che gli uomini non vogliono accettarla questa realtà ed è invece opportuno che si guardino allo specchio. Che si guardino allo specchio e anche che, ho sempre letto nel panflet di Pauline Armage, che usino le loro energie, le loro forze per incivilire gli altri membri maschili. Quindi mi sembra di capire che l'unica cosa che gli uomini possono fare, anche un po' per farsi perdonare, ma anche per migliorarsi come gruppo sociale, sia occuparsi della civilizzazione degli altri uomini, è così? Sì, credo che il è più tempo che ci sia una preoccupazione masculina. Ci fa delle decennie che le femmini sono sommate di essere pädagogiche e di loro apprendere come si comportano con le donne. E ora che i librii sono scritti, i podcasti sono registrati, io penso che c'è agli uomini di scegliere questa connessione e di la trasmettere perché in realtà è il loro problema. Sì, direi che è proprio così, anche perché mi pare che ormai di tempo ne sia passato tanto e che quindi sia giunto il momento che dopo tanti decenni in cui le femministe sono state accusate di avere questo atteggiamento pedagogico nei confronti degli uomini, di voler insegnare loro come rapportarsi alle donne, beh, i libri sono stati scritti, i podcast sono stati registrati, a questo punto la palla passa agli uomini e quindi sta a loro decidere che è giunto il momento di apprendere, di fare qualcosa e di cambiare la situazione mettendolo in pratica queste indicazioni, anche perché il problema è loro. Il problema è loro nel momento in cui le donne, come appunto incita a fare Pauline Armage, decidono di sottrarsi allo sguardo degli uomini, lasciarli in un angolo, insomma, e andare avanti, mettersi più in alto di quegli sguardi. Mi chiedo se sia un'azione, anzi una rivoluzione, una rivoluzione non priva di rinunce e anche di dolore. Mi viene in mente, mi scuso se la domanda diventerà un po' troppo lunga, una cosa che ha detto una grande scrittrice che io amo molto, che si chiama Edna O'Brien, una grande scrittrice irlandese, ragionando sugli uomini ha detto che bisognerebbe rinunciare del tutto agli uomini, ma questa sarebbe, e si riferiva al suo sguardo, alla sua visione personale, sarebbe una piccola morte. Mi chiedo se sia del tutto positiva questo tralasciare gli uomini, perché mi sembra che sia questo il messaggio, tralasciamo gli uomini. Io penso che, se, collectivemente, le donne si decide di ne più accorger tanto importanza al guardo e a la vita dei uomini, matemattamente ciò va un po' forceri gli uomini a cambiare di comportamento e in se rendendo conto che i loro comportamenti attuali e le loro tecniche per avere le uomini non funzionano più, li devono essere obviati ad evoluare. Quindi, per me, questa è una forma di liberare noi ora, perché la situazione è complicata in quanto uomini per rapporto ai uomini oggi, e che non può che engendrere una presa di conoscenza mascolina. Devo dire che, per quanto mi riguarda, penso che sia importante che collettivamente le donne decidano, sarebbe bello se questo accadesse, di sottrarsi, di non dare più tutta questa importanza allo sguardo degli uomini, così come proprio all'esistenza degli uomini che vivono appunto accanto a noi. Questo sarebbe un passo, diciamo, che costringerebbe gli uomini a guardare le cose in modo diverso, perché la situazione sarebbe diversa e loro sarebbero costretti a rapportarsi alle donne e ad agire nei confronti delle donne in maniera diversa, perché il comportamento delle donne nei loro confronti cambierebbe e a questo punto non avrebbero alternative se non quella di evolvere anche loro, per l'appunto. E quindi, secondo me, sarebbe un passaggio molto importante proprio per riuscire oggi, più che mai, a liberarsi, a liberarci noi donne di questo fardello. Sicuramente è molto difficile la situazione in cui ci troviamo a vivere noi donne rispetto agli uomini e sarebbe decisamente opportuno che ci fosse da parte degli uomini una vera e propria presa di coscienza di questo problema. Quando lei parla dei privilegi, della massa dei privilegi, la massa dei privilegi maschili e si riferisce in particolar modo a che cosa si riferisce in particolare? Quali sono i privilegi degli uomini? E sono ancora gli stessi oggi? perché in molta teoria femminista, letteraria, umana e così di tendenza sociale sentiamo sempre più spesso dire che il regno del maschio bianco di mezza età è finito. Io penso che ci siamo acquisiti in quanto femmine ces 100 anni ultimi anni sono dei diritti, che è molto importante, ma che in effetti, in come si può evoluire in società, siamo comunque extremamente limitati per quanto riguarda i privilegi. Lei uomini sono sempre più hanno più di place in i media, le loro parole è più crue, più valorisata, le loro espertise è acquise, anche quando non sono più esperti. E le donne sempre sono sempre più di prieverte che sono dei uomini a parto enta, che meritano le mesmo diritti, le mesmo opportunità e il stesso respect che sono dei uomini. E questo è qualcosa che pena veramente evoluire malgrè il fatto che nella legna tecnicamente siamo censi essere ega. Sicuramente è vero che la situazione delle donne è cambiata negli ultimi anni, abbiamo ottenuto dei successi, abbiamo fatto dei passi avanti, abbiamo ottenuto maggiori diritti, questo sì, sicuramente è vero, però è anche vero che poi nella realtà dei fatti, se sulla carta la situazione è quella, nella realtà dei fatti, in realtà la situazione non è migliorata così tanto, perché se guardiamo veramente a quello che vediamo nella nostra quotidianità, ci rendiamo conto che i passi avanti sono stati abbastanza contenuti, pensiamo ad esempio alla posizione, appunto, ai privilegi degli uomini che continuano a guadagnare di più, che continuano a essere ritenuti, come dire, più autorevoli, più adatti a certe posizioni, che possono essere considerati esperti, anche quando tutto questo essere esperti non si capisce da dove arrivi questa esperienza presunta che li rende degli esperti. E quindi, ciò nonostante, nonostante i passi avanti a livello anche legislativo, le donne continuano a faticare, continuano a faticare, continuano a dover lottare per vedere riconosciuti effettivamente nella realtà gli stessi diritti degli uomini per essere riconosciute come esseri umani a tutto tondo, diciamo così, e per ottenere lo stesso rispetto degli uomini. È veramente una problematica che persiste e che fatica ad evolvere su cui dobbiamo sicuramente continuare a lavorare. Ho molto apprezzato, mi ha molto divertito un'annotazione che ho trovato nel libro, molto spiritosa anche, che Paulina Armange scrive che usa come mantra, come insegnamento una frase che dice abbi la sicurezza di un uomo mediocre. e mi ha fatto molto ridere ma non solo ridere anche riflettere perché Paulina Armange consiglia che quando abbiamo dubbi e diciamo che l'essere femminile ha in sé il dubbio e l'autocritica come qualcosa di molto connaturato, chiediamoci quando abbiamo questi dubbi sul nostro operato, su noi stesse, su come ci stiamo comportando, chiediamoci che cosa farebbe al posto mio un uomo mediocre e a questo punto una grande calma dovrebbe impossessarsi di noi e una grande sicurezza. Ecco, volevo chiedere a Paulina Armange se questa era una bella battuta o invece, come credo, di spiegare meglio il fondamento di questo confronto sulla mediocrità. in questa idea di avere la confronto di un uomo mediocrità c'è il fatto che quando dote di nos propri competenze il faut pensare che un uomo non doutere non e non esitere non a montare questa entretica a parlare in le media su 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 al che probabilmente il en sait moins che e non si pertinente su 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 che noi e quindi c'è la l'envie di non le la place qu'ils ont déjà partout e tutto e di prendere la place qui nous reviene e on a ses doutes on est déjà compétente on est déjà légitime et qu'on doit se rassurer que quoi qu'on fasse on le fera forcément mieux qu'un homme blanc médiocre qui lui ne douterait pas une seconde et je pense que c'est très important parce qu'on parle beaucoup en tout cas en France du syndrome de l'imposteur et c'est quelque chose qui assez dépolitisé alors qu'en réalité c'est aussi la société qui nous pousse à ne pas nous sentir légitimes en tant que femmes et en tant que personnes minorisées au profit des hommes blancs en général que c'est c'est de plus non c'est battue parce que il fait de avoir la stessa fiducia que un homme bianco mediocre veut dire que nous donne spesso dubitiamo de nous stesse et ce accade spesso là dove se fossimo un uomo bianco più o meno di mezza età appunto beh quest'uomo probabilmente non esiterebbe assolutamente per niente ad andare in televisione a esprimere la sua opinione oppure a lanciare un progetto non so un'azienda magari anche se non è che sia così qualificato per farlo però è convinto di esserlo e questo lì è sufficiente ecco quindi questo mantra si riferisce più che altro da una parte al desiderio di non lasciare come dire il campo libero anche quando potremmo esserci noi donne essere protagoniste non lasciare il campo libero alle persone agli uomini che sono già ovunque comunque quindi non non dubitiamo troppo di noi stesse da una parte poi dall'altro lato ci serve anche secondo me a rassicurarci un poco perché effettivamente noi dubitiamo di noi stesse molto spesso quando non ce n'è bisogno perché in realtà siamo siamo brave siamo competenti siamo valide in quello che facciamo e sicuramente siamo meglio di un uomo bianco mediocre e questo è qualcosa di cui non dobbiamo mai dimenticarci perché non so ad esempio in Francia non so se sia così anche in Italia ma in Francia c'è molto questo dibattito sulla sindrome dell'impostore che è presente soprattutto in ambito politico però è presente in generale anche per quanto riguarda appunto gli uomini rispetto alle donne e le donne appunto vittime di questo di questo sistema diciamo di questa sindrome si ritrovano ancora una volta a lasciare il campo libero per l'appunto all'uomo bianco mediocre ecco questo è davvero molto interessante interessantissimo anche perché mette in campo qualcosa che riguarda anche la responsabilità femminile rispetto a questo pensiero quando Paulina Armage dice sottraiamoci allo sguardo degli uomini io credo che è una cosa più profonda del dire lasciamo gli uomini da una parte e andiamo per la nostra strada credo che dica e mi dirà Paulina Armage se sbaglio che dica anche alle donne di smettere di considerare più importante più autorevole più necessaria l'opinione e l'approvazione di un uomo smettere di un uomo che può essere mediocre ma può anche non esserlo perché non è non credo che sia scontata affatto la mediocrità maschile ma di diciamo cacciare via dal profondo di noi stesse quella tic culturale non lo so se è così poco o se è qualcosa di ancora più sedimentato comunque quell'atteggiamento che fa proprio a noi dare più importanza più fiducia più desiderio di approvazione e più anche accettazione di una posizione di potere più all'uomo che alla donna dove c'è una donna c'è un maggiore sospetto di quanto ci sia sospetto nei confronti di un uomo e questo è profondamente profondamente sbagliato e danno di un anche le pregiudizioni sexistiche che abbiamo, che si applicano a noi mesi e che si applicano alle altre famiglie di nostro entourage. E c'è ciò che mi invita anche a fare, a dare più di importanza a l'opinione e al guarda delle famiglie, e quindi di soi messe anche, per riequilibrer la balance che è sempre in favore dei hommes che sono presi più importanti e avere un'opinione che ha più di valore che la nutro. Sì, assolutamente, in realtà penso che tutti uomini e donne, ahimè, soffriamo di questa sorta di, come chiamarlo, pregiudizio culturale, pregiudizio anche formativo, educativo, a cui siamo stati sottoposti, semplicemente perché siamo tutti cresciuti in una società patriarcale e quindi fin da piccoli c'è stato inculcato questo concetto secondo cui la donna non è proprio all'altezza dell'uomo, l'uomo è sempre un po' meglio della donna e non è che solo perché si è donne si è necessariamente tutte femministe, ci sono dei pregiudizi che ci accompagnano tutti, uomini e donne, e che sono pregiudizi sessisti, questo sì, ed è per questo appunto che io penso sia importante invitare le donne appunto a valorizzare quella che è l'opinione delle donne, lo sguardo delle donne, in modo da cercare in qualche modo di, come dire, ritrovare un certo equilibrio tra il peso che noi diamo a questi uomini che sembra sempre facciano tutto meglio, quello che dicono sia più importante di quello che dicono le donne e invece assolutamente così non è. Paulina Armage nel suo pamphlet confessa, nonostante la giovanissima età, di avere per molti anni anche lei messo gli uomini al primo posto, quindi c'è stato un passaggio, un'evoluzione, appresa di consapevolezza e anche una crescita di rabbia e infatti in questo pamphlet anche la rabbia è analizzata nel suo percorso. C'è un'evoluzione, nonostante l'evoluzione? è legato, però è ovviamente una pensia completamente sexista e penso che è molto importante dire alle donne che la colere che si sentono contro il patriarca e contro i uomini di loro vita che si occupano del patriarca è importante, legittima e che è una forza di riconoscere che è un'evoluzione per riparare un'injustizia. Il discorso della rabbia che si prova, della collera che si prova in questo che io ho provato in prima persona è molto importante perché stiamo appena cominciando adesso, dopo decenni, a ridare un po' di valore vero a quella che in realtà per tanti anni è stata liquidata questa collera, questa rabbia come isteria e quindi quando si parla di una donna isterica si liquida questa rabbia come se fosse pura emozione e niente di logico e questo è un'interpretazione molto sessista ed è molto importante quindi secondo me assolutamente che le donne si riappropriano di questa collera e è giusto provare collera nei confronti del patriarcato per la situazione in cui ci troviamo a vivere ancora oggi e anche perché il patriarcato continua a beneficiare di questa situazione patriarcale per l'appunto e quindi è importante che le donne prendano atto del fatto che è legittimo essere arrabbiate ed è anche legittimo esprimere con forza questa collera in modo che diventi una forza che ci aiuti appunto a migliorare la situazione, ad affrontarla in primis e poi a migliorarla. Ecco vorrei chiedere a Paulina Armange che cosa concretamente proprio nella vita di ogni giorno possono e devono fare le donne per attuare questo piano che lei costruisce nel suo libro per far sì che questa rabbia sia costruttiva, costruisca qualcosa di libero e io spero anche di pacifico, di luminoso. Io ho deciso di trasformare questa colera in action in diventare un'associazione femminista. Io credo che è la forma che mi corrisponde la migliore di me sentire utile, perché infine è ancora bisogno di molti associazioni femministi. Io credo che è anche molto interessante che ci si tratta la question insieme, perché come voi avete detto, sono molto ragione e non ho alcune di soluzioni per cambiare il mondo. Io sono molto contenta di partecipare, ma è anche importante che sia un progetto che stiamo costruendo insieme e senza gli uomini. Io vi posso dire quello che ho fatto io, quello che faccio io nella mia vita quotidiana è cercare di incanalare, quello che ho fatto fino adesso, cercare di incanalare questa rabbia, questa collera in un'azione molto concreta. Cioè io faccio volontariato presso un'associazione femminista, perché mi fa sentire utile, mi sento più attiva, mi sento più costruttiva per l'appunto e ahimè c'è tanto bisogno ancora oggi di tante associazioni femministe e quindi forse questo è il motivo per cui ho scelto di fare questa cosa, però questo sono io ovviamente che ho deciso di farlo, è sicuramente una questione complessa che va affrontata insieme, anche perché come giustamente facevi notare, io sono giovane e non è che abbia la pretesa di cambiare il mondo da sola, dall'oggi al domani o abbia delle soluzioni belle e pronte da proporvi, assolutamente no. Voglio partecipare a cambiare il mondo, voglio contribuire anch'io, ma non ho assolutamente la soluzione, però sì ci tengo assolutamente a rendere appunto, a rimettere a posto i piatti della bilancia, ma da sola sicuramente non posso farlo. E in Francia quali sono state, quali sono ancora le reazioni a questo panflet, a questa invettiva e anche a questa proposta, perché questo libro contiene una proposta? Il y a eu due grandi reazioni, celle delle persone che non hanno luo il libro e che sono molto in colere, senza sapere di cui si parla. E poi, le persone che hanno luo il libro, senza sicuramente essere 100% d'accord, ce che è tutto a fatto normale, trovano che, sì, il y a du bon a riconoscere questa colere, e i messaggi che ho ricevuto da le lectrice sono molto touchanti, perché c'è un libro che ha miso dei mots su qualcosa che non osa ancora essere detto e che ora si rivendica un po' meglio. e c'è molto touchante. Allora, le reazioni sono state, direi, per lo più le raggrupperei in due tipologie principali. Ci sono state le reazioni di chi il libro non l'ha proprio letto e quindi ha avuto una reazione molto rabbiosa nei confronti di qualcosa di cui era meglio, cioè non sapeva nulla, per cui si sono espressi condannandolo e dicendone di tutti i colori, senza avere idea di che cosa stavano parlando. E poi ci sono stati invece quelli che il libro l'hanno letto e non necessariamente, per carità, come accade però sempre, non solo nei casi come quello del mio libro, ma come accade molto spesso, non tutti sono d'accordo con la tesi che io elaboro appunto nel mio libro, però chi lo legge comunque di solito dice, sì, qualcosa di buono in questo libro sicuramente c'è perché quantomeno ha messo l'accento sull'importanza di riappropriarsi noi donne di questa rabbia, di questa collera e devo dire personalmente che ad esempio ho ricevuto molti messaggi da parte di persone e di donne che hanno letto questo libro che ho trovato molto toccanti perché mi hanno fatto capire come questo libro, questo che mi dicevano appunto, che questo libro è riuscito ad affrontare, a mettere nero su bianco cose che fino ad ora non erano ancora state messe a fuoco, diciamo, in maniera così chiara e quindi adesso, anche grazie a quello, è più facile rivendicare qualcosa di cui grazie a questo libro siamo a conoscenza, siamo consapevoli. Gli uomini come si, parlo degli uomini diciamo più illuminati e disposti ad ascoltare naturalmente e anche desiderosi di cambiare, come si sentono quando leggono in questo libro frasi come Men are Thresh. Gli uomini diciamo, sono molto utile, sono molto utile e sono molto utile, sono molto utile, in una certa forma, di vedere se mettere in questione e anche comprendere che se loro, personalmente, non sono il problema, fanno parte del sistema e che riconoscono che hanno il loro ruolo a giocare. Gli uomini che fanno lo sforzo di leggere questo libro, si prendono la briga di leggere questo libro, sono sicuramente degli uomini che danno prova di grande umiltà, questo sì, e devo dire che io lo trovo anche un segno incoraggiante altrettanto e poi questi uomini sono di solito disposti a porsi delle domande, a mettersi in discussione e sanno e sono anche disposti ad accettare la realtà del fatto che anche se loro stessi individualmente non sono il problema, fanno parte del problema e questo appunto è qualcosa secondo me di positivo, di incoraggiante. Va bene, io credo che abbiamo finito il nostro tempo e quindi vorrei ringraziare e salutare Paulina Armange e invitare tutti a leggere questo libro che è molto fresco, molto sincero, molto interessante, che pone un punto di vista che non possiamo assolutamente ignorare e che va preso sul serio. Credo che non sia naturalmente necessario essere d'accordo con ogni affermazione, anche con ogni accusa al genere maschile, ma la sincerità, la freschezza e la brillantezza e anche il coraggio con cui queste opinioni vengono espresse con nettezza, possono darci lo spunto per una seria riflessione e magari sarebbe bello, sarebbe costruttivo, sarebbe auspicabile una vera sorellanza. Grazie. 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 Vederci.